Come smontare e pulire il soffione della doccia Partiamo col dire che esistono diversi tipi di soffioni per la doccia. Se il tuo non somiglia a questo, prova ad andare a vedere l'altro video sul nostro canale. Puoi trovare il link in descrizione. Rimuoviamo la piastria di acciaio che ha una funzione più che altro estetica. Volendo potete rimuovere questa ghiera svitanto queste tre vitine anche se non è necessario. Sfiliamo questo primo filtro a pettine. Usa le dita e tira verso l'alto con forza per rimuovere questo tappo in plastica. Ora infila la mano e tira, sempre verso l'alto, per far uscire il tappo in gomma. Qui è dove troverai la maggior parte dei capelli incastrati. Adesso infila sempre la mano all'interno del sifone ed estrai quanta più sporcizia riesci. Bene, ora puoi rimontare tutto facendo il procedimento a ritroso. Ricordati di pulire bene tutti i pezzi smontati prima di riposizionarli. Se il video ti è stato utile lascia un mi piace e semplice. Ricordati di pulire bene tutti i pezzi smontati prima di riposizionarli. Grazie! Grazie! Grazie!